Ciao a tutti, oggi vediamo come inserire un video in html, andremo a inserire un video nostro che abbiamo qua nella cartella oppure se avete bisogno di embeddare qualcosa da youtube, tutti gli altri video bene o male seguono sempre queste due regole allora cominciamo con un nostro video, quindi potremmo avere un nostro video nella cartella, nel progetto, sul sito, quello che è perciò andiamo qua e mettiamo video e andiamo a mettere una width e gli mettiamo magari 320 con un'altezza di 240, tutto arbitrario, potete fare quello che volete gli mettiamo dei controls che sono i controlli per play, stop eccetera eccetera e vogliamo andare a mettere una source, quindi è la nostra risorsa source e mettiamo src, vedete qua video-prova.mp4, vedete che ce l'ha trovato e dobbiamo solo andare a aggiungere il type eventualmente quindi type video-mp4, se io salvo e vado ad aprirlo andiamo sul browser e come potete vedere abbiamo il video con l'audio, la possibilità di toglierlo abbiamo la possibilità di scaricarlo, velocità di riproduzione, possiamo allargarlo, insomma possiamo fare un po' di cose nonché stopparlo, mandarlo avanti e indietro questo è il livello basico, se invece vogliamo incorporare qualcosa da youtube, ho già preso qua un video sul nostro canale, lo vedete, ci basta fare tasto destro codice per l'incorporamento, lo vedete da qua, altrimenti possiamo fare condividi, vedete qua incorpora, lo facciamo ci dà la possibilità di aggiungere delle opzioni, possiamo dire vogliamo iniziare da 1 minuto e 09 o dove siamo arrivati possiamo aggiungere la privacy avanzata, quindi altri discorsi e soprattutto i controlli del player, quello ci interessano in questo caso perciò ci basta fare copia, vedete, mi sposto qui, vado qua sotto, incollo, vediamo se c'è lo sistema, perfetto, quindi alt maius che è f per sistemarlo velocemente direi che noi possiamo fare salva, torniamo sul browser, ed ecco qua vedete che non solo abbiamo il video precedente che abbiamo inserito noi ma anche il video del nostro canale su come convertire immagini webp in jpeg questo era come inserire video su html, spero sia stato d'aiuto, se avete altra necessità scrivete sotto nei commenti io vi ringrazio, alla prossima, ciao ciao ciao